Dopo sei sconfitte consecutive, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ritrova la vittoria. A Cremona finisce 84-88 per Pesaro che sale a quattro punti in classifica. Ancora ultima, ma ora in coabitazione con la Fortitudo Bologna. Riscattata la prova con Napoli con una prestazione di livello, seppur con qualche pausa che ha rimesso in discussione nel finale un match che aveva visto Pesaro in controllo. Prima vittoria per Banchi che finalmente si gode una prestazione convincente di Sanford, idem per Moretti, oltre all'ottima gara di Jones e del solito Delfino. Dal basket al volley dove la cronaca si è mescolata allo sport. L'allenatore della Megabox Vallefoglia ha infatti accusato un malore durante la partita che vedeva le sue ragazze impegnate a Scandicci. Bonafede si è sentito male nell'intervallo fra il terzo e il quarto set. È stato portato via in barella dal Palasport e visitato all'ospedale Fiorentino di Torregrossa, dove è stato subito dimesso. Al momento l'ipotesi è quella di una reazione allergica dovuta ad una intolleranza alimentare. Bonafede ora sta meglio ed è potuto rientrare a Vallefoglia con la squadra, una Megabox che ha perso al tie-break dopo che si trovava in vantaggio 2-7-0. Nel calcio è finita con un piatto 0-0 la sfida fra Visse e Carrarese, con i pesaresi che tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte al cospetto della big del torneo, ma incappano in una domenica opaca e senza un fatta per un arrembante finale di partita. Un pari che soddisfa più l'ex bomber di Udinese nazionale Totò di Natale che il mister pesarese Banchini. E' mancato, secondo me, quella esuberanza, quella voglia di dominare l'avversario che devi avere in queste partite. E' quello che dico sempre, la partita emotiva l'abbiamo vinta l'ultimo quarto d'ora, perché prima invece è stata sempre in equilibrio. E quando giociamo in casa dobbiamo essere in grado di far percepire questo soprattutto ai nostri avversari. Io faccio i complimenti a tanti ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita, contro una squadra che gioca ben calcio, noi siamo venuti qui a cercare di fare le nostre cose. Credo che noi fino a ottantesimo abbiamo fatto una partita, l'abbiamo fatto noi. Noi sono stati bravi gli ultimi dieci minuti, però credo che si meritava qualcosa in più noi, però va bene anche il pareggio. Seconda vittoria consecutiva per il Fano, la prima con mister Cappellacci in panchina. Casol e Licaxio firmano il 2-0 in casa dell'Alto Casertano, ultima in classifica. Grande vittoria anche dell'Ital Service che al Palafiera stravince lo scontro d'alta classifica con l'Olympus Roma. Finisce 5-1 con le reti di De Oliveira, Taborda, Canal, Onorio e Spindola. Inutile il gol dell'ex Marcelinho. Sicilia Mara invece per la Fiorini Pesaro Rugby che a Catania perde 30-22.